Continua a ritmi battenti l'iniziativa di Cosmo Tedeschi per allargare il quadro della sua coalizione. Questa mattina Isernia ha incontro tra il candidato sindaco e Vincenzo Niro. Tedeschi parla di una proficua collaborazione in corso e afferma stiamo partecipando da diversi giorni agli incontri organizzati dall'area di centro. Si sta cercando di raggiungere un accordo su un impegno programmatico per la città di Isernia. Nelle prossime ore con l'intera area centrista vi saranno ulteriori incontri per trovare la migliore sintesi e andare al voto con una coalizione compatta così come ha auspicato più volte anche dal vice presidente nazionale dei popolari Vincenzo Niro. Tutto questo a garanzia dell'attuazione di un programma politico condiviso necessario per far ripartire la città di Isernia. Una città da porre al centro dei valori civici e sociali. Siamo convinti, continua Cosmo Tedeschi, che bisogna aggregare le migliori energie per il nostro modello Isernia 2021-2026, essere al centro dei problemi della città. Per questo il candidato sindaco si è affidato ad una squadra di esperti nazionali che sta tuttora ampliando e affinando, tanto da sorprenderlo piacevolmente per la qualità e la profondità di analisi. E Tedeschi fa l'esempio dei costruttivi incontri organizzati con l'Associazione dei Commercianti, la Camera di Commercio e la Proloco, riunioni da cui sono emerse tenacia, positività e soprattutto disponibilità a superare insieme concretamente i gap storici che Isernia vive da decenni. Tedeschi si propone di lavorare sull'efficientamento della macchina amministrativa e proprio in questi termini ha ascoltato con attenzione i temi proposti dal Presidente della Proloco, Michelino Freda. È inevitabile, precisa libro editore, puntare a un progetto moderato, centrista e civico, fiducioso che questa scelta sarà vincente. Dobbiamo insieme fare sintesi inclusiva. Questo l'appello lanciato, dobbiamo impegnarci totalmente per trasformare la città in un modello Isernia, un laboratorio politico di tutto il Mezzogiorno d'Italia per dare il progresso che merita alla nostra amata città.